Resterà in carcere Antonio Di Stazio, l'ex vigilante che sparì nel luglio 2016 a Badia Alpino con un carico d'oro dal valore di circa 4 milioni di euro. Il Tribunale del Riesame di Firenze ha infatti respinto la richiesta di concessione degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico all'ex guardia giurata. Era l'11 luglio 2016 quando Di Stazio si allontanò con il furgone della Securpol per la quale lavorava mentre un collega stava effettuando un prelievo d'oro in una ditta a Badia Alpino. Fece così perdere le proprie tracce, il furgone venne invece ritrovato a qualche chilometro di distanza. Il vigilante si presentò alcuni giorni dopo assieme al suo avvocato dai carabinieri di Lucca, fu così arrestato su ordine della procura di Arezzo. L'ex vigilante è stato condannato in primo grado a 4 anni e mezzo di carcere dove si trova da circa 15 mesi. I suoi legali avevano deciso di richiedere gli arresti domiciliari con l'utilizzo del braccialetto elettronico ma il Tribunale del Riesame ha detto no. Gli avvocati adesso valuteranno le motivazioni dei giudici fiorentini per decidere se ripresentare la richiesta al momento del processo d'appello fissato per il prossimo marzo. Di Stazio ad oggi non ha mai rivelato dove si trovi l'oro trafugato.